Quali sono quindi le attività a supporto che ESET mette in campo per i propri partner? Innanzitutto mettiamo a disposizione un programma di canale che a volte lo si dà per scontato, ma lanceremo questo programma di canale in Italia ufficiale per la prima volta il 15 di giugno, quindi invito chiunque a partecipare e soprattutto i rivenditori interessati a capire come la squadra italiana di ESET possa dare supporto al business della security che oggi è diventato ormai importante nel mondo dell'informatica. Quindi un programma di canale con gli elementi che sono quelli forse simili a quelli degli altri vendor, ma proprio perché ogni programma di canale deriva da un'analisi preventiva su quelle che sono le esigenze del rivenditore del sistema integratore italiano che fornisce questi elementi di richiesta di supporto da parte dei vendor e crediamo che ci siano tutti gli elementi necessari per dare supporto. Una caratteristica fondamentale del programma è la semplicità, nel senso che questi rivenditori ormai lavorano con diversi vendor, magari non tutti nella security, ogni vendor ha un proprio programma di canale e non possiamo far venire mal di testa ai rivenditori perché possano interpretare nel giusto modo come vogliamo noi vendor il nostro programma di canale. L'intenzione è proprio quella, cioè di andare a supportarli a 360 gradi in base a quello che è l'esigenza specifica del rivenditore, non tutti i rivenditori sono uguali, quindi il commitment che abbiamo da parte di altri rivenditori è massimo, altri non possono perché non hanno le competenze interne, perché non hanno fatto investimenti precedenti sulla parte di security, perché è una startup in termini di security, ecco che quindi il nostro team italiano si è organizzato in modo da coprire tutte le aree necessarie per fare business, quindi a partire dalla parte di vendita, supporto alla vendita, piuttosto che marketing e pre-vendita e post-vendita, abbiamo ogni dipartimento che possa supportare l'esigenza puntuale del nostro rivenditore e a supporto ulteriore di questo nostro team abbiamo proprio i tre distributori, quindi i distributori vanno a darci una mano e sono allineati con quello che è il nostro programma di canale, ecco che diventa fondamentale il lancio per poi presentare anche attraverso i distributori durante l'anno, fino alla fine dell'anno, gli elementi fondamentali, elementi che a mio avviso sono sempre bellissimi sulla carta, ma la parte più importante diventa quella di fare l'execution, quindi di noi saremo quelli che dovranno fare l'execution, non pretenderemo mai che i rivenditori imparino a memoria tutto quello che devono imparare, quello che cercheremo di trasferire è l'importanza di essere partner, quindi di condividerlo inizialmente il programma di canale, saremo noi poi a ricordare quelli che sono gli elementi fondamentali nel programma, perché gli elementi del programma servono per mantenere gli equilibri all'interno di un canale che vorremmo non fosse di sistemi integrator noti, ma fosse meritocratico in termini di rivenditore che si concentra sui nostri prodotti e quindi vuole crescere con noi, avrà dei meriti maggiori rispetto a quello che invece by Opportunity potrebbe utilizzare le nostre soluzioni.